Vista la recrudescenza dei contagi, da ieri sono proibite le visite ai pazienti, quindi gli anziani sono completamente soli e questo va ad aumentare il carico degli operatori sociosanitari che devono occuparsi dei bisogni primari soprattutto dei pazienti non autosufficienti per quanto riguarda la somministrazione dei pasti e i bisogni igienici. L'interdizione familiare purtroppo, anche se dolorosa, è una scelta dovuta per evitare i contagi, il rischio che qualcuno all'esterno porti il contagio all'interno delle strutture. Il problema è che chiaramente non essendoci più i familiari anche per pochi minuti al giorno i pazienti sono sempre più soli, quindi noi aspettiamo che ci sia anche personale di supporto al personale sanitario che possa essere vicino al paziente anziano non autosufficiente. Purtroppo questo stiamo vedendo è difficile perché il personale manca in tutti i settori. La situazione covid non ha fatto che aggravare una situazione già grave preesistente per quanto riguarda la carenza di personale. È chiaro che l'aumento dei posti letto, 18 in più in medicina 1 e 15 in più in medicina 3, non fa altro che creare un grave problema assistenziale. Il fermo purtroppo si è approcciato alla quarta ondata con i problemi e con le difficoltà che aveva anche nelle precedenti ondate. Manca il personale infermieristico, manca il personale OSS e quello che c'è purtroppo viene distribuito, viene portato da una parte all'altra con criteri che ancora dobbiamo ben capire. Aumentano i posti letto costantemente ogni giorno ma non aumenta il personale. Questo significa abbassare pericolosamente gli standard assistenziali. Nonostante i sindacati abbiano sempre sostenuto i lavoratori pur volendo evitare una vera e propria agitazione, nei giorni prossimi sarà inevitabile uno sciopero. I lavoratori sono passati da un gran senso di responsabilità, di abnegazione a una frustrazione e anche a una arrabbiatura importante. Noi temiamo che ci sia prima o poi una sollevazione perché il numero dei operatori rispetto al carico di lavoro è assolutamente squilibrato. Attendiamo che arrivino con delle forme eccezionali o straordinarie infermieri OSS, altrimenti noi saremmo costretti a fare delle azioni anche che porteranno un grande disagio alla popolazione. Quello che manca secondo la CISL, secondo Donati, è proprio una cabina di regia a livello regionale. La riapertura del Covid Hospital si ritiene assolutamente necessaria soprattutto per le gravi carenze dell'area vasta 4. Ma l'apertura del Covid Hospital è veramente un mistero, mistero fino a un certo punto. Noi abbiamo una visione che necessiterebbe l'apertura del Covid Hospital. Chiaramente non si apre anche per carenza di personale o anche per una scelta politica. Non voglio entrare direttamente su questo però è chiaro che se noi non apriamo il Covid Hospital tutto quello che è il carico che il Covid d'ospita nell'andata precedente aveva assorbito, noi ce l'abbiamo all'interno degli ospedali. Questo ha una ripercussione diretta sulla capacità assistenziale e di offerta sanitaria per tutti quelli che non sono Covid.